La seduta del Consiglio Comunale straordinaria di Pescara, aperta alle associazioni con la presenza dei vertici dell'ACA, la società che gestisce l'acqua per 64 comuni, non è bastata. Le organizzazioni che tutelano i consumatori, visto il perdurare dell'emergenza idrica, tornano a chiedere un intervento concreto e immediato. Bisogna intervenire sulle reti, ma anche sulla sensibilizzazione a non sprecare un bene prezioso come l'acqua. L'estate è finita, ma l'emergenza in Abruzzo non è ancora passata. Quindi Monica De Vito, presidente di Adiconsum, chiede a nome di tutte le organizzazioni che si sono riunite in un vertice, negli uffici della regione, in Piazza Unione, a Pescara, l'apertura di un tavolo. La partecipazione può rendere soprattutto un futuro migliore a tutti, non solo gestire l'emergenza, ma soprattutto garantire che tutti possano approvvigionarsi del bene. La nostra intenzione è anche quella di riunire l'aspetto politico, quindi non solo associazioni dei consumatori esperti, ma anche in futuro vedere coinvolgere la politica regionale. Il confronto tra le associazioni abruzzesi ha dato vita a un documento unitario, volto a spronare le autorità anche a un cambio di visione. La programmazione è fondamentale per Adoc, come evidenzia la presidente Monica Di Cola. Non sono più sufficienti i bacini, non sono più sufficienti le sorgenti, è necessario riutilizzare e riciclare l'acqua. C'è bisogno anche di condivisione, quindi non è più possibile avere una frammentazione della governance dell'utilizzo dell'acqua, quindi è necessario che tutti gli enti che governano l'utilizzo dell'acqua, la raccolta e la distribuzione si siedano al tavolo. Si è costruito in tutti gli anni, pregressi, e poi dal 2015 fino al 1920 più o meno.